Si chiama Aysegul Tersi, è una ragazza di soli 23 anni d'età, di nazionalità turca ed è stata picchiata sull'autobus perché indossava un paio di pantaloncini corti, eccessivamente corti, sarebbero stati giudicati. Come riporta un pugiliano italiano, il fatto si è verificato a Istanbul in un giorno di festa, questa ragazza che di mestiere fa l'infermiera ha preso l'autobus e ha messo in fondo e in piedi quando ha iniziato il suo incubo. E' stata insultata dai consiglieri presenti e dall'autista che la acredita è prisa a calci. A segui, è stata colpita bruscamente, è scesa dal bus, ha chiamato il papà e la compagnia dell'ospedale, dove è stata medicata. La sua storia ovviamente non è passata inosservata, ma è finita ditta ditta nei social network ed è diventata virale sul web. Vi ringrazio per il gentile ascolto, vi ringrazio per la gentile visione del presente video, iscrivetevi, commentate, sono cose che capitano, queste non devono assolutamente capitare. Una ragazza deve infatti essere libera di poter indossare tutto ciò che ella vuole. Grazie, a presto.